buongiorno carissimi oggi volevo affrontare un tema dedicato alla dittatura noi sappiamo tutti a noi sempre nostre media nostri telegiornali nostri intellettuali nostri giornalisti raccontano molto sulla dittatura russa noi sappiamo benissimo che vladimir putin magari non sappiamo veramente bene chi è ma sappiamo quello che ci stanno raccontando i nostri media il mainstream io su questo ho scritto libro cercando di dare una visione più ampia di putin sempre comunque criticandolo perché io non sono uno sostenitore assiduo di putin io critico le decisioni politiche di chiunque io non ho le simpatie politiche per dei politici anche perché in questo momento ci sono pochi che meritano veramente il rispetto perché la gran parte dei politici oggi sono purtroppo persone ciniche sono persone che perseguono i loro interessi e questo viene sia qui in occidente che in russia dall'altra parte comunque noi sappiamo benissimo che in russia c'è una dittatura però è un paradosso spesso mi vengo coinvolto vengo coinvolto nelle discussioni dove mi dicono guarda se tu sei oppositore di putin devi per forza sostenere silenz che l'ucraina e io rimango di stucco e dico scusate ma perché io se sono contrario a un dittatore devo sostenere un'altra forma di dittatura io sono contrario a tutte le forme di dittatura e quindi se io critico putin e ho criticato putin è normale che io adesso critico silensky e le decisioni di silenz che soprattutto ciò che silenz che fa con il suo paese in questa folle guerra e a me ovviamente dicono ma no ma ucraina baluardo democrazia così ha scritto la repubblica così ha scritto il corriere della sera così dicono i nostri intellettuali i nostri grandi giornalisti e ovviamente raccontandomi guarda in russia hanno ammazzato anna politkovske in russia hanno ammazzato boris nemtsov in russia sono morti in tutti questi anni i giornalisti ecco cari amici quello che voi non sapete è che in ucraina dal 2014 ad adesso sono morte molte più persone che in russia ma tantissime persone tantissimi oppositori del governo e soprattutto della deriva nazista che presente nel governo ucraino purtroppo bisogna chiamare le cose con il loro nome perché nel governo di ucraina c'è una grande c'è un grande problema con la deriva nazista e questo se lo devono risolvere gli ucraini ovviamente non sono d'accordo con il fatto che arriva la russia a denazificare l'ucraina sottolineiamo questo fatto io dai primi giorni ho detto che sono contrario all'invasione militare di qualsiasi paese per qualsiasi necessità per qualsiasi motivo non esiste non può non può essere niente che giustifica un'invasione militare però gli ucraini comunque hanno un sistema nazista e se lo devono risolvere loro con con questo problema altrimenti si troveranno sempre coinvolti nelle cose molto spiacevoli come ad esempio questa guerra che stanno vivendo e per parlare di morti che sono stati fatti in ucraina i dati reali che le potete verificare comunque su persino su wikipedia dove i numeri sono molto diminuiti rispetto alla realtà dove io ad esempio non ho trovato parecchi nomi però se voi digitate in wikipedia oppositori uccisi in ucraina veri riescono fuori riesce fuori la lista di 75 nomi questo è dal 2014 ad adesso 75 persone uccise in ucraina perché oppositori del regime attuale e tra loro io posso ricordare ad esempio nomi così vi leggo nomi che sono più importanti tutti i morti importanti per carità tutti esseri umani però quelli che erano conosciuti nella società ucraina prima di morire sicuramente marchi invece slav che era deputato del consiglio regionale di odessa stato ucciso nella casa dei sindacati di odessa perché partecipava alla manifestazione antifascista e purtroppo sono stati assaltati dai nazisti spalleggiati dalla polizia ucraina dai militari ucraini e questa tragedia finita con massacro nella casa dei sindacati sono stati bruciati vivi i numeri sono da 70 a 100 persone ogni fonte dice il proprio numero i numeri reali la parte ucraina non ha mai rivelato ufficialmente perché anzi ha cercato di nascondere tutto questo caso hanno anche di recente hanno fatto di tutto per cambiare su wikipedia anche denominazione di questo rogo di questo massacro e comunque si parla di cifra molto alta di persone uccise lì è un vero e proprio omicidio di massa poi un altro un altro personaggio che mi viene in mente e la capa adesso la trovo qua nel ave invece slavkov shun che era il vecchio comunista ucraino lui era uno del partito comunista presso la cittadina glinki è stato ammazzato proprio per le sue posizioni chiaramente antifasciste è stato ucciso da dai nazisti della dei servizi segreti ucraini rapito torturato e ammazzato poi valentina simenio samsanenko era una signora che è stata ammazzata sempre perché era oppositore al regime che è arrivato in ucraina attraverso il colpo di stato si era espressa diverse volte contro il nazismo contro il nazionalismo è stata ammazzata da questi personaggi e lei era ex capa della fondazione delle proprietà del governo ammazzata così poi oles businami un caro amico giornalista antropologo una persona squisita è stato ammazzato a pistoletate in faccia perché oles da sempre era contrario alla deriva nazionalista nazista in ucraina cioè lui era tra l'altro antiputiniano lui spesso andava in televisione russa dove contestava vari personaggi della politica russa come ad esempio gerinovsky era un fiero ucraino io con lui parlavo spesso dell'identità ucraina lui essendo antropologo e avendo studiato all'università proprio la storia dell'ucraina raccontava in maniera molto interessante tutti gli aspetti storici di questo paese il senso della nascita dell'identità ucraina lo spiegava bene quando gli ucraini insomma sono stati come dire sono diventati ucraini e quando hanno smesso di essere malorossi diventati ucraini tutte queste cose lui sapeva e poi era un grande storico militare perché ha scritto diversi libri sulla storia dei cosacchi ha scritto anche dei bei libri su sui miti della cultura slava è venuto due volte in italia io con lui ho partecipato a una bellissima presentazione del libro mi sembra mi sembra al festival di gorizia comunque è stato ucciso davanti a casa sua perché qualche giorno prima in televisione aveva contestato questa decisione del governo ucraino di glorificare i collaboratori dei nazisti come stefan bandera a shukevich e anche i militari del del divisione ss galicina e quindi oles purtroppo è morto perché aveva le sue idee ed era ammazzato per questo poi nel 2015 è stata ammazzata olga maros redattore di un giornale sempre nel 2015 il deputato della parte di regione oleg kalashnikov il procuratore della regione di odessa oleg milnichuk tutte persone che hanno contestato questa deriva nazista che è arrivata in ucraina quindi sono tutti tutti i personaggi che in certo punto hanno detto noia non ce la faccio più io questa cosa non accetto e le hanno eliminati alexandr pekluschenko della partita di regioni di regione ex capo della amministrazione della regione di zaporizia stanislav melnik il deputato sempre della partita di regione hanno cercato di credere che è un che lui sia ammazzato da solo è una cosa veramente allucinante e poi michael cettof michael cettof perdonatemi deputato sempre del partito di regione partito di regione li hanno ammazzati praticamente tantissimi di questo partito alexander bradiuga ex capo della polizia sempre perché contestava la deriva nazista sergei walter faceva parte del del partito di regione nella città di meletopoli alexei kalesnik ex capo della del consiglio comunale di kharkiv e comunista lui era comunista quindi a archiv hanno deciso che nel consiglio non devono essere comunisti l'anno l'anno eliminato fisicamente tanti uomini da fa guardate quasi una lista entrate e leggete perché vivi vi consumo solo il tempo leggendo questi nomi quindi cari amici il problema dell'ucraina è legato e proprio alla all'incapacità del governo attuale di autogestirsi cioè loro sono arrivati hanno preso il potere hanno promesso al popolo le montagne d'oro non riescono a mantenere niente hanno gettato il paese nella guerra e loro dall'inizio opprimano tutti quelli che hanno un minimo di cervello e che capiscono che bisogna contestare questa forza perché questa forza porterà il paese al disastro in effetti questo è successo io vi voglio ricordare un'altra cosa a 19 marzo vladimir zelensky ha presidente ucraino ha firmato il decreto che vieta la funzionalità alle 11 partiti politici nel suo paese quindi quando noi parliamo di democrazia dell'ucraina che un baluardo della democrazia europea e noi dobbiamo capire che non può essere nessuna democrazia nel paese il presidente del quale vieta l'esistenza dei partiti politici già formati già creati che già funzionano e che hanno già gli elettori questa è una cosa allucinante questo vuol dire fare la guerra al proprio popolo questa è una dittatura vera e propria quindi chi mi dice che putin dittatore io sì lo dico anche io è un dittatore autoritario autoritario vi lo spiego perché ve lo spiego in questo libro se volete leggetelo però se allo stesso tempo mi aggiungete che zelensky è il leader del paese più democratico al mondo io sono sarò primo a contestarvi e vi contesterò con i fatti con i fatti reali quindi uno di questi fatti è quello che è successo il 19 marzo 11 partiti politici messi al bando da zelensky la piattaforma opposizionaria per la vita il partito di shari tra l'altro anatoli shari io lo conosco personalmente un bravissimo ragazzo un giornalista ucraino un blogger uno che ha creato tutta questa realtà di contestazione alla deriva nazista che è stato nel suo paese poverino per sopravvivere per non essere ucciso è dovuto fuggire dall'ucraina ma comunque da fuori continua la sua attività politica shari per immaginate shari ha sostenuto l'arrivo di zelensky quando zelensky ha fatto le elezioni shari ha sostenuto zelensky e tutti e tutte le persone che seguivano shari shari in ucraina molto seguito aveva tanti seguaci perché è un blogger molto famoso un blogger che si occupa da sempre di politica shari ha fatto sì che i suoi seguaci votassero per per zelensky hanno votato zelensky e zelensky cosa ha fatto ha fatto fuori shari uno dei primi che è stato fatto fuori è proprio shari perché shari ha chiesto a zelensky di porre la fine a questa deriva nazionalista nazista nel sistema di forza nel sistema governativo ucraino cioè lui gli ha detto guarda noi ti abbiamo votato adesso tu dacci una mano fai vedere che tu veramente sei responsabile di ciò che hai promesso tira fuori tutti questi nazisti nazionalisti fuori dal sistema ucraino fuori dall'esercito vari battaglioni azov e così via tutti fuori e tutti condannati li vogliamo condannati per i crimini che hanno fatto questo detto shari e zelensky cosa ha fatto ha fatto fuori shari e adesso i servizi segreti ucraini hanno messo shari nella lista che si pubblica la lista di persone sul sito mi rotore dove tra l'altro ci sono anch'io non mi ricordo adesso a che numero mi hanno messo comunque in questo sito ci sono tutte le persone che vengono targhetizzate da da questi sbirri perdonatemi questo questa parola ma è così sono sbirri nazisti ucraini del governo ucraino loro mettono sul sito le foto le informazioni delle persone e chiunque qualsiasi nazionalista folle ucraino qualsiasi fuori di testa nazista può uccidere una persona a contribuire con questo alla all'uccisione dei dei nemici di questo sistema antidemocratico sistema nazista che c'è in ucraina e con questo insomma diventare un eroe e loro poi scrivono quando una persona viene uccisa loro scrivono eliminato tra l'altro in questa lista c'è anche roger waters il uno dei co fondatori del del pink floyd cioè la follia dei nazisti ucraini è arrivata a tal punto che vogliono ammazzare pure roger waters dei pink floyd perché lui in una delle ricente interviste aveva detto che il conflitto ucraino va ovviamente riguardato rivisto nelle sue origini perché questa questa narrazione che viene presentata dall'occidente non è una narrazione coerente e proprio per questo la democratica ucraina ha messo il roger waters musicista di pink floyd nella lista di persone che devono essere uccise eliminate per il bene dell'ucraina quindi cari amici partiti che sono stati vietati da Zelensky sono tutti partiti partiti di sinistra quindi per farvi capire chi sostiene il nazismo in ucraina cioè presidente Zelensky sostiene il nazismo in il primo marzo succede un caso che apre una nuova un nuovo vortice nella nel pesante nelle pesante azioni della della dittatura di Zelensky lui comincia a eliminare eliminare fisicamente tramite i suoi sgherri di servizi segreti ucraini che si chiamano sbu lui comincia a eliminare le persone i sindaci delle città che si trovano in difficoltà perché c'è l'aggressore russo che sta invadendo questa gente deve preoccupare preoccuparsi dei loro cittadini che sono rimasti senza luce senza gas senza provvigimenti perché l'amministrazione ucraina è scappata l'ucraina non le dà più niente è chiaro sono interrotti i vari corridoi e questi sindaci devono prendere le decisioni cosa fare e quindi alcuni di questi sindaci hanno deciso di parlare con i russi non dico di schierarsi con i russi non dico di diventare putinisti semplicemente andare dai russi discutere con i russi la situazione creatasi nel paese chiedere ai russi di aiutare con aiuti umanitarie perché non c'è cibo cosa facciamo facciamo lasciamo morire la gente il sindaco alla fine dice guarda il mio governo ucraino mi ha lasciato mi ha abbandonato io sono qua con aggressore ma finché non mi uccide finché la gente è lì che ha fame io vado e chiedo all'aggressore almeno la possibilità di sopravvivere di essere sostenuto quindi loro sono andati dai russi e hanno cercato con russi di organizzare due cose primo sostegno di a livello di alimentazione quindi cibo medicinali acqua e così via e seconda organizzazione dei corridoi per poter per permettere ai civili ucraini di abbandonare i luoghi che loro vorrebbero abbandonare perché magari non vogliono essere invasi dai russi non vogliono stare sotto i russi vogliono tornare in ucraina questi corridoi dovevano essere discussi appunto con i russi quindi questi sindaci sono andati dai russi a parlare tutti eliminati ragazzi tutti i sindaci presi e uccisi allora vladimir strok il sindaco della città cremenna è stato rapito dai militari ucraini e dopo è stato trovato dopo due giorni è stato trovato per strada con segni di tortura e poi l'hanno finito con un colpo al cuore colpo di pistola al cuore 7 marzo è stato trovato ammazzato il sindaco di gostome yuri prilipko perché lui era già stava già discutendo con russi per organizzazioni di corridoio umanitario per i cittadini della sua città il 24 marzo è stato ammazzato ghenadi mazegora il sindaco della città di kupyansk e lui tra l'altro lui prima aveva pubblicato il video dove lui ha chiesto al presidente zilensky di lasciare la sua figlia che si trovava presso le strutture dei servizi segreti ucraini sbu perché loro l'hanno rapita per usarla per attraverso di lei fare una spinta sul padre che padre si trovava sul territorio controllato dei russi loro non riuscivano ovviamente arrivare a lui fisicamente perché attorno c'erano russi allora cosa fanno questi a kiev rapiscono la ragazza perché vive a kiev questa qua la rapiscono la torturano lo tengono lì per far sì che padre fa i loro interessi quindi le cose allucinanti e quindi secondo le le autorità internazionali undici sindaci delle città ucraine sono scomparsi o trovati morti ammazzati e così via quindi carissimi amici se io sostengo non so una dittatura come posso schierarmi con un'altra dittatura io sono contrario dittatura all'autoritarismo di putin e proprio per questo io sono contrario a ciò che accade in ucraina e io reputo ciò che accade in ucraina anche peggio di quello che la dittatura di putin perché al nei numeri nei modi e nei metodi la dittatura ucraina questa liberazione del nazismo che abbiamo visto supera qualsiasi tipo di dittatura esistente nel mondo è unico paese che permette che nell'esercito militano i nazisti che girano con i distintivi che riportano i simboli del terzo reich ufficialmente integrati nella simbologia dell'esercito ucraino quindi tutte queste cose cari amici a me impediscono di dare sostegno a Zelensky però allo stesso tempo mi dispiace per il popolo ucraino così come mi dispiace per il popolo russo io mi sento vicino al popolo russo che ha le sue problematiche che vive le sue difficoltà dovute alla politica che fa il suo governo e allo stesso tempo io sono vicino al popolo ucraino e sono vicino alle sofferenze del popolo ucraino che loro devono vivere e secondo me vivranno ancora si trovano a dover vivere e vivranno ancora per molto tempo per colpa di questo governo dittatoriale irresponsabile che a mio avviso è un governo fantoccio delle oligarchie occidentali questa è la mia opinione personale poi se volete condividere qualcosa di vostro sempre in maniera pacata io spero sempre a un dialogo costruttivo se volete condividere fonti se volete presentare le antitesi sono molto curioso interessato ad ascoltare tutto quello che avete da dire a leggere tutto quello che avete da dire da scrivere solo se la presentate in maniera civile in maniera educata come ho detto anche prima io elimino ormai tutti i commenti offensivi tutti i commenti disprigiativi tutti quelli che cominciano a attaccare o le mie persone o minacciarmi guardate verrete subito eliminati in maniera di tre secondi perché io non intendo di trasformare la mia pagina in un'area di guerra tra la russia e ucraina non mi interessa questa è una pagina di approfondimenti è una pagina di dialogo di discussione civile cari amici vi ringrazio seguitemi su sui miei social su facebook su instagram su youtube su youtube mettete pollice in alto campanellino così vi arrivano le signalazioni quando io carico nuovi video e seguitemi su telegram dove io pubblico il materiale che non posso pubblicare su altri social per motivi di censura vi mando un forte abbraccio grazie per essere stati con me